la pianificazione dei dividendi e soprattutto la loro solidità sono una componente importantissima per avere la certezza che il nostro cash flow sia sempre costante inoltre se si vuole mantenere un flusso continuo sarebbe opportuno andarsi a orientare su aziende che siano solide che abbiano il loro dividendo in costante aumento e che ci diano la garanzia che il loro payout sia sostenibile tutto questo è possibile ad esempio affidandosi alle dividend aristocrats americane ma per chi ha scarsa disponibilità economica potrebbe essere molto difficile andare di investire in tutte queste che potrebbe puntare un etf ma si può fare con molto meno oggi ti dico che può fare tutto ciò con solo tre aziende e avere un dividendo accreditato ogni mese ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da adebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole dove sia la versione cartacea che kindle qui sotto in descrizione il link non il libro ci sono aziende come anche etf che distribuiscono dividendi mensili ma non tutte queste aziende o etf sono parte della strategia di un investitore molte volte perché non sono graditi o anche perché non rientrano nella strategia di molti di noi ma in questo ci vengono in aiuto le aziende americane e in particolare le dividend aristocrats infatti quasi tutte le aziende americane distribuiscono il dividendo quattro volte all'anno ogni trimestre conoscere alla perfezione quando queste vadano a distribuire questo dividendo permette con solo tre aziende di puntare ad avere un cash flow mensile tra le quasi 70 aziende dell'indice delle aristocrats è difficile scegliere per cui io sono andato a prenderne tre che secondo me sono le migliori difensive stock per cui possono performare bene o rispetto ai mercati in generale durante i cosiddetti cicli espansivi ma che possono anche essere un punto di salvaguardia durante i cicli recessivi ed in più ne vado ad aggiungere anche una quarta che ama la foria ma per il fatto di avere delle distribuzioni sballate nel senso che il dividendo non viene dato ogni tre mesi esatti aggiungerò a questa lista come completamento partiamo dai trimestri che iniziano a gennaio per cui la seguente sequenza di azienda che pagherà il proprio dividendo tutti gli anni a gennaio aprile luglio ed ottobre per questi mesi ho scelto il ticker kmb kimberley clark corporation una multinazionale americana per la cura delle persone che produce principalmente prodotti di consumo a base di carta l'azienda produce prodotti di carta igienica e strumenti chirurgici e medici i prodotti di marchio kimberley clark includono i fazzolettini kleenex prodotti famosissimi i prodotti per l'igiene femminile cotex la carta igienica cotonelle scott e andrex e le salviettine multiuso wipe al salviettine detergenti scientifiche kim wipes e i pannolini usejet haggis quelli che ho usato per tanto tempo insieme anche alle salviettine per i neonati si tratta di un'azienda antichissima fondata nel 1872 e di un'azienda che conta quasi 45.000 dipendenti alle quotazioni attuali ha un dividendo del 3.66% e al netto della doppia tassazione lo porta a un 2.3% per noi italiani il dividendo di kimberley clark cresce poco più del 3.6% su base annua ed ha aumentato il proprio dividendo per più di 50 anni di fila l'unica pecca in questo caso è che payout ratio che al momento è quasi a un 82 e mezzo per cento ma sicuramente un'azienda che ha meno discussioni particolari e lì per restare a distribuire i propri dividendi andiamo poi altri mesi che iniziano a febbraio e per cui questa azienda distribuisce i propri dividendi a febbraio maggio agosto e in novembre e in questo caso andiamo a puntare sul ticker cl colgate palmolive o come dicono in americano colgate palmolive azienda che da tempo impegnata nella produzione di prodotti a consumo che conosciamo più o meno tutti per la cronaca colgate palmolive a sede a new york e attualmente impiega 33.800 dipendenti a tempo pieno anche questa azienda antichissima fondata nel 1806 e molti prodotti sono conosciuti da tutti per chi è un cane magari il spettino tisch non potrebbe essere un prodotto che conoscete e per quanto riguarda invece noi animali bipedi che parlano abbiamo ad esempio il dentifricio colgate che conosciamo un po tutti il sapone di bagno scuma marco palmolive per prodotti per la pulizia come ad esempio ajax o fabuloso alla data attuale distribuisce un dividendo lordo del 2.63% al netto per noi italiani dell'1.67% anche in questo caso un dividendo con un paio a traccia dell'80% che aumenta alla media del 3.28% su base anno e che viene pagato senza sosta da 59 anni consecutivi passiamo all'ultimo trimestre dell'anno quello che inizia a marzo e per cui la seguente azienda pagherà a marzo giugno settembre dicembre e per questo ultimo caso ho deciso di andare a prendere il ticker per eccellenza jng per cui johnson johnson azienda antichissima anche questa fondata nel 1886 e oltre ad avere la parte di sviluppo di prodotti per la persona anche quella di sviluppo dei dispositivi medici prodotti farmaceutici e beni di consumo confezionati azienda che fa parte dell'elenco della fortune 500 ed è il sito per la precisione al trentaseisimo posto la più importante la più grande delle tre anche per capitalizzazione ed una delle poche società al mondo ad avere un credito di pala superiore a quello degli stati uniti d'america secondo i revisori per i nomi più famosi commercializzati abbiamo la linea johnson e johnson per i bambini anche per questa conosciuta tantissimo da me in questo periodo i prodotti di bellezza della cura come clean and clear o nitrogena e le lenti a contatto accovi ma si tratta solo di una porzione una frazione di prodotti disponibili da parte di johnson in johnson per queste tre scelte quella che preferisco in quanto il suo payout razio è solo al di poco al di sotto del 44 per cento con un dividendo poco al di sotto del 1.7 per cento netto per noi italiani perché all'ordo il 2 69 per cento paga il dividendo da 60 anni e la crescita di questo è del 6 per cento in media su base anno la migliore dell'otto per quanto riguarda l'azienda bonus come vi dicevo per questa la distribuzione è leggermente sfasata in quanto comincia il primo trimestre ma fa gennaio marzo giugno e settembre con un payout razio del 66.9 per cento una crescita del dividendo di quasi un 7.4 per cento su base anno è una distribuzione in aumento che va avanti da 50 anni non credo che faccia schifo a nessuno avere quest'ultimo 2.71 per cento lordo è un netto dell'1.71 per cento che proviene dalla mia amatissima pepsico con il ticker pp azienda che ho sempre preferito a coca cola per il fatto principalmente che oltre alle bevande come la sua concorrente appunto coca cola company possiede anche una linea di snack per cui alimentari che la pongono in un territorio leggermente più difensivo ma con una marcia in più per fare un contesto generico fra le quattro assieme ci portiamo a casa un netto anno dell'1.85 per cento di dividendo ma sono quattro aziende che promettono anche un capital gain grazie al loro modus di defensive stocks bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste quattro aziende e se anche tu avresti scelto le stesse o se si staresti orientato verso altre ne avevi qualcuno in list o la hai già in portafoglio fammelo sapere nei commenti qui sotto poi se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo youtube ma anche per me per la mia soddisfazione così io cresco sulla piattaforma a te costa un attimo ma per me significa il mondo se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e diritti arrivederci un prossimo video ciao a presto